Anche il cielo del grifone ha il suo lieto evento. Il fiocco, rosa o azzurro, ancora non è dato sapere, è stato simbolicamente apposto dal reparto Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro, che hanno appena registrato la nascita di otto nuovi pulcini. Le uova appena schiuse sono state deposte pochi mesi fa dai grifoni della grande colonia della riserva naturale orientata. Quando i pulcini raggiungeranno i circa quattro mesi di età, cominceranno le prove di volo, sempre sotto l'attento controllo dei genitori e lo sguardo a distanza dello staff della riserva. I piccoli diventeranno autonomi solo in estate e rimpolperanno la colonia del labelino oppure ne fonderanno di nuove nelle vicinanze. Il grifone, animale un tempo estinto sull'appennino centrale, ora può contare su circa 300 unità nella zona. La specie contribuisce al mantenimento di un accettabile stato di conservazione di tutti gli ecosistemi. Ma perché il grifone è prezioso? Il grifone è un pezzo importantissimo della biodiversità ed è un animale, essendo un avvoltoio, è un necrofago obbligato, lui mangia esclusivamente e solo carcasse. Quindi diciamo che ha un ruolo di spazzino, di spazzino della natura e quindi in questo modo facendo sparire in breve tempo animali anche grossi, come cavalli, come vacche, riesce a contenere quella che è la diffusione di patogeni nell'ambiente naturale.